salve a tutti cari amici dal vostro supercorris eccoci qui è tornato dirt rally 2.0 me l'avete chiesto in parecchi e ho deciso di rifare questo video con questa bellissima ford fiesta r5 qui in spagna sull'asfalto che la superficie che preferisco stasera non vi dimenticate la live su twitch alle 19.30 seguitemi perché ci sarà formula 1 e ci appresteremo a conoscere il tracciato dell'austria dove domani si parte col mondiale anche se le premesse non sono buonissime perché abbiamo visto una mercedes troppo dominante speriamo che gli altri si siano nascosti comunque parliamo di questa ford fiesta vettura con quasi 300 cavalli le r5 sono delle piccole urc con alcune peculiarità in meno chiaramente rispetto alle sorelle che sono proprio solo prototipi però sono vetture molto divertenti io di solito non parlo prima degli intro di dirt ma ora l'ho voluto fare perché voglio dirvi che sono un appassionato di macchine a 360 gradi quindi è chiaro che anche di rally molto di rally perciò ben vengano i gameplay di rally certamente fare una carriera già ci ho provato non è che sia andata benissimo a livello di ascolti quindi a livello di carriera non è la cosa migliore finito questo intro vedrete prima la prova dall'abitacolo cioè dal cofano col mio volante ori apex che ancora una volta si rivela veramente buono con dirt molto sensibile e preciso e poi ci sarà il replay esternamente con la vettura come potete vedere dai più grandi youtuber della specialità però io non riesco a giocare con la telecamera esterna quindi lo ripropongo poi alla fine come replay quindi ci divertiremo insieme amici iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei video state aumentando in maniera netta anche come iscrizioni i like mi raccomando i like me ne state mettendo tanti continuate così perché ne ho bisogno per crescere ancora e non dimenticatevi che stasera sarò su twitch quindi cari amici sostenetemi perché ho bisogno di voi partiamo con il video 5 4 3 2 1 via 56 sinistra 30 3 destra apre 6 lunga in 1 sinistra lunga in 3 destra stringe 50 2 sinistra lunga 50 4 destra lunga in taglia molto 5 sinistra in 5 destra lunga apre su crinale in 5 sinistra molto lunga in taglia molto 5 destra 60 6 sinistra apre 30 6 sinistra in 5 destra stringe 50 6 sinistra in 5 sinistra 150 5 sinistra molto lunga in 6 destra in taglia 5 sinistra lunga apre 100 6 sinistra 50 6 sinistra su crinale rallenta 52 destra in 2 sinistra lunga in 3 destra 4 sinistra in 6 destra in 6 destra molto lunga su crinale 60 6 sinistra lunga stringe 4 in 6 destra tieni la sinistra su 30 3 destra stringe in 4 sinistra lunga in attenzione 3 destra lunga stringe 2 100 3 sinistra 30 2 destra lunga apre su crinale 30 4 sinistra in 5 destra in 3 sinistra apre 6 molto lunga 30 tieni la sinistra in 2 destra lunga in 6 sinistra in 2 destra lunga in 6 sinistra molto lunga stringe 4 tieni la destra su 50 3 sinistra stringe 4 destra 30 1 sinistra lunga stringe in 1 destra in 1 destra in 1 destra sopraguardo in 2 sinistra in 3 destra allo stop in 1 destra Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.